figura tra le più rappresentative del teatro novecentesco, esordì sui palcoscenici nella compagnia di Luigi Pirandello, lavorando poi accanto a Lamberto Picasso, al cinema esordì nel 1932 con il film comico Due cuori felici, 1932, di Baldassarre Negroni nella parte di co-protagonista, ma inizialmente la sua attività sul grande schermo fu molto frammentaria, vi ritornò in maniera più assidua solamente negli anni del dopoguerra, apparendo in pellicole molto famose e particolarmente rappresentative, come la provinciale, 1953, di Mario Soldati o la dolce vita, 1960, di Federico Fellini, in un ruolo di secondo piano ma notevolmente significativo. Fu inoltre attrice di prosa sotto contratto con la Rai. Apparve infatti numerosi sceneggiati e serie televisive, fra cui, nel 1955 Piccole donne, regia di Anton Giulio Maiano, nel 1962 il caso Mauritius, ancora con Maiano, nel 1965 Ressurrezione, regia di Franco Enriches, e, nel 1967, La Fiera della Vanità, diretta nuovamente da Maiano. Dalla seconda metà degli anni settanta la sua carriera cinematografica andò rapidamente declinando. Dalla voce melodica e ben impostata. Lavorò anche come doppiatrice, ma essenzialmente di caratteriste di secondo piano. Fu molto frequentemente impegnata nella prosa radiofonica dell'A.R. e della Rai. Sin dai primi anni trenta, nel 1985 prese parte al Varietà Radiofonico Lagrime in onda su Radio 1 nella parte della nonna di, Diego Cugia, autore e conduttore del programma Insieme a Massimo Catalano. Nel 1988 prese parte allo spettacolo Donna Pirandello, per la regia di Aldo Sarullo. Rimase in attività fino alla sua morte. Avvenuta alla veneranda età di 102 anni. Per la sua longevità è stata soprannominata la nonna del cinema italiano.